E sì, dobbiamo ricordarlo. Ti chiedo, da storico, ma anche da figlio di padre ebreo, tu hai detto sono ebreo al 110% orgoglioso di questa identità. Anche se non sono ebreo, in senso, perché sono figlio di padre ebreo, ma non di madre ebrea, però mi sento ebreo. Però mi spieghi perché paesi come la Germania e la Francia sono stati molto duri. Noi invece abbiamo lasciato impuniti troppi davvero crimini nazifascisti, non neanche per questo peccato originale che ci ritroviamo ogni anno, a litigare sul 25 aprile. Ma loro hanno avuto problemi di dimensioni molto maggiori, sia la Francia che la Germania. Collaborazionisti francesi. Ma poi, diciamo, gli ebrei italiani erano 35.000, quelli francesi 700.000. E quindi era una dimensione anche dell'essere vicini. E poi, però, hai ragione tu, in Italia c'è stata una forma di trascuratezza molto maggiore. Ma guarda che... Ce lo vediamo, l'armadio della vergogna, l'amnistia... Ma anche in questi giorni... Cioè, in vista, nell'ottica di una vera pacificazione, non sarebbe stato meglio fare i conti fino in fondo con la storia? Beh, mi inviti... Io cerco di farlo ogni giorno, però vedo che in questi giorni, per esempio, aprite i giornali, su tutti questi proclami di Hamas, dei terroristi, la parola più usata è ebreo, non israeliano. Loro dicono, dati all'ebreo, prendi l'ebreo e, vedi, anche tu reagisci, non dico con stupore, ma cominciamo a notare questa cosa qua. Perché, sai, parlare degli ebrei morti 80 anni fa, in fondo, è facile. E se ricominciano a ammazzare degli ebrei, in quanto ebrei, prestiamo la dovuta attenzione e vedi che la cosa assume un rilievo diverso da quello di cui stavamo parlando. E' una situazione complessa, però io voglio passare adesso dalla storia universale, perché di questo abbiamo parlato, la tua storia. Quindi ti faccio scegliere e scoperchiare la seconda cloche, perché c'è un elemento della tua vita biografica. Scegliere, di là non ci arrivo, quindi prendo... Ma questo, te l'ho passato apposta. Ah, che bello. Allora, volantino di potere operaio, movimento della sinistra extraparlamentare. Di cui io ho fatto parte, vero? Eh, alla fine degli anni 60. Possiamo anche vedere una tua foto. No, inizio degli anni 70, sì. Sì, fine anni 60, dicevo. Facciamo vedere una foto di te, ha una manifestazione proprio di potere operaio, se ce l'abbiamo. Ecco, e quella di fianco a te, quella che poi è diventata la tua prima moglie? No, la mia prima moglie è l'ultima a destra. Ah, però c'era. Sì. Ok, però mi racconti com'è stato il tuo 68, appunto non solo da un punto di vista politico, ma anche umano, amicizie, affetti, amori. È stato tutto dal punto di vista esistenziale, a parte un sacco di sciocchezze che si dicevano e che facevano parte degli slogan, ma quello credo che capiti a ogni generazione. Lo spirito con cui abbiamo vissuto quegli anni è stato lo spirito fondativo. Io sono sempre rimasto quello lì, sempre rimasto quello lì. Sempre uguale, però io ti leggo un passo dell'ino di potere operaio. Agnelli, Pirelli, Restivo, Colombo, non più parole ma piogge di piombo. Cioè una quindicina d'anni dopo, anni 80, tu di quell'Agnelli diventi amico, andate in vacanza a sciare insieme e nel 90 ti chiama a dirigere la sua stampa a soli 41 anni. Come si fa a passare da potere operaio al giornale del padrone per antonomasia, cioè rivoluzionario imperatore, come sei spesso stato definito e ti chiamavo così anche io all'inizio? Che ne so, io non ho scritto... Come si fa? Basta rimanere se stessi, ma qualcosa di te stesso avrai dovuto rinunciare. A me sembra di no. Cioè hai cambiato il mondo? Sembra che loro abbiano scelto, Agnelli adesso per parlare di una persona, un essere umano, abbia scelto, non è che non sapesse chi ero, da dove venivano, man mano che io ho fatto questi passaggi. Io allora lavoravo all'Espresso, poi ho lavorato a Repubblica, poi sono passato alla stampa, poi quello che raccontavi tu sono diventato direttore della stampa. Sì, sì, 41 anni. Tutti questi passaggi sono avvenuti, alcuni in compresenza con quella attività e secondo me basta essere... Quindi hai cambiato Agnelli, non sei cambiato tu? Secondo me si sono accorti che quelli che venivano, perché non sono il solo che veniva da quella generazione o da quella formazione, che quelli che venivano da quella formazione erano più mentalmente più agili di altri, scremati le sciocchezze e c'erano persone che dicevano cose intelligenti, mentre noi dicevamo sciocchezze. Quindi è stata un'apertura d'oro. Però il modo di affrontare e poi anche di criticare le sciocchezze dopo era un modo veloce, moderno, più... meno italiano. Quindi tu sei rimasto uguale in realtà, dici? Beh, allora innanzitutto, vedi, noi ne parliamo qua, ma tu quanta gente hai conosciuto? Io che me ne sono occupato da storico. Tutti erano fascisti, tutti quelli che erano fascisti, poi nel dopoguerra non si trovava più un fascista. Ma una cosa l'avrai vissuta anche tu, quelli della Prima Repubblica. Ci fu un momento, quando tu eri ragazzina, nelle prime armi, dove non c'era più uno che fosse stato debo cristiano, socialista, quando ci fu la rivoluzione manipulita, è meglio vivere una vita aperta, capito? In cui tu dici chi sei... Quindi rivendichi una storia che ricostruisci in modo assolutamente lineare. Beh, sempre alla luce del sole, capisci? Però a proposito di definizioni, l'enciclopedia Treccani ti ha dedicato la voce mielismo sul tuo stile di fare giornalismo, anche questo, eccolo, lo possiamo vedere, intendendo anche una mescolanza di alto e basso, tant'è che sempre Agnelli, quando tu poi sei passato a dirigere il Corriere della Sera, ha detto che avevi messo la minigonna a una vecchia signora, aumentandone peraltro le vendite. Tu rivendichi fino in fondo il mielismo o qualche mia colpa lo fai? Allora, innanzitutto devo dire, con tutta l'amicizia, ancora mi lega, che il paragone, quella strada della minigonna alla vecchia signora che mi è rimasta appiccicata, è un complimento fino a un certo punto. Beh, però ho sottolineato anche che l'hai fatto vendere un sacco di copie. Ma mica ce l'ho con te, ce l'ho in modo che con lui, nel senso che per vendere un sacco di copie è un'operazione un po', diciamo così, illeggiatra. Poi, soprattutto, non tutti hanno declinato questo modo di mischiare l'alto e il basso in una maniera, come spero di aver fatto io, elegante, capisci? A volte sono delle sbracature, soprattutto verso il basso, in cui io non mi riconosco e quindi mi è capitato, come spesso capita, che nel tuo nome si fanno un sacco di porcate e tu non puoi andare in giro a dipendere. E quando ti dicono che sei un cerchio bottista, cosa dici? Che sono loro che sono doppiopesisti, che usano due pesi e due misure e quindi... Scusate, loro, gli spettatori, forse non me lo posso ricordare, ma allude a una polemica che ho avuto con Scalfari negli anni 90, appunto, in cui lui mi accusò di essere... Perzismo... Esattamente, quindi dietro questa battutina... Sono preparata, posso dare l'esame su Paolo Mieri, capito? Tu sì, ma non tutti gli spettatori sono tenuti. Senti, andiamo all'ultima cloche, perché mi interessa un ultimo tassello della tua vita personale prego. Un telefonino. Io voglio sapere se tu lo usi solo per telefonare o se anche social, iaccount, Twitter, Facebook, Instagram... Solo... Come forma di difesa per riuscire a leggere ancora libri, cose sulla carta, solo per telefonare. però sono su Twitter... Però mandi messaggi o solo per dargli la voce? Ah no, Whatsapp, sì. No, 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 ma non ci parlo, mando dei Whatsapp o dei messaggi, quello sì, e non sono sui social, tranne su Twitter dove leggo soltanto. Ho mandato solo un messaggio a una collega per autocertificarmi, a cui riconoscevo autorevolezza, che era Anna Masera, la conosci, una collega della stampa, sì sono io il giorno in cui sono entrato e lei mi chiedeva, ma sei tu? E poi non ho mai più scritto su te. Sì, però lo leggo avidamente e... E cosa pensi del fatto che si vendano sempre meno copie di libri, di giornali, però gli influencer hanno milioni di follower? Che non è ancora arrivata la saldatura, cioè i libri, i giornali e la televisione riuscirono ad arrivare a una saldatura di autorevolezza, di esprimere l'autorevolezza, Montanelli o Scalfari, le persone della generazione che ci hanno preceduto, che questo nuovo mondo ancora non è espresso, ha espresso una potenza di fuoco clamorosa. Però ha prodotto anche nuove generazioni che forse non hanno letto... Sai cosa gli manca? Gli manca una cosa che abbia quella autorevolezza che per me da giovane avevano Scalfari e Montanelli. Quella coda là io da osservatore... Considerano autorevoli altre figure che non sono Montanelli o Scalfari... Ma no, c'erano anche allora altre figure autorevoli... Però è quel peso specifico, ma non voglio dire criticare una cosa che poi conosco come capisci. Senti, a proposito di telefonino, visto che tu hai per noi un'immagine immutabile, cioè sei sempre fisicamente così come sei oggi, il che vuol dire che è un bene perché non invecchi. Allora io volevo capire... Però sono invecchiato presto a vent'anni. Come? Come hai visto dalla foto, sono invecchiato presto a voto questa cosa. Ma io sono curiosa di capire com'era Paolo Mieli d'adolescente. Allora ho usato una app, quella che tu non usi, e guarda cosa è venuto fuori. Ma non ero, ero già calvo io quindi... No, capelli corti, non eri calvo. Ma eri così, tu ti riconosci? Ma ritira fuori quella foto del 68 e lì è come ero davvero. Quella è una foto che avevo avuto vent'anni quella. Tra l'altro è una foto che non ho mai visto in vita mia prima volta che vedo. L'abbiamo scovata noi. Siete dei geni. Questa sì che è una trasmissione. Eh no, bravo. Io per avere questa... Questa è più recente. Questa è di Oliviero Toscani, è una foto fatta... No, quella precedente della manifestazione dobbiamo farla incominciare e poi gliela regaliamo a Paolo Mieli. Era quella lì, ecco. Ma io in realtà ti voglio fare un altro regalo. E in mezzo c'è quello che era il mio migliore amico, vabbè adesso... Ah, ma guarda, però viene nostalgia. Eh beh, certo, perché li riconosco tutti. Io quegli anni non rinnego nulla. No, ti fatti ce l'hai detto. Ed è stata la mia forza avere un passato... Certo. Che nessuno ti può appizzicare e dire... Eh, ma tu hai detto, hai fatto questo... No, no, ma infatti ti ho chiesto anche... No, no, non era che tu, hai capito? Sì, 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 certo, certo. Sto spiegando... No, no, sto spiegando a chi è un ragazzo adesso e scrive sui social... Fate delle cose che in qualsiasi momento della vostra vita uno le ritrova e non ve li possa rinfacciare. Cioè, sappiate che ci sarà un giorno che qualcuno... E quanta gente viene pizzicata che ha scritto delle cose che non andavano bene. Nel momento in cui c'è tanto che importa. Senti, abbiamo parlato delle tue passioni, la storia, il giornalismo, la politica, le donne... Perché le donne ti piacciono parecchio, no? Sì. Compresa me. Tantissimo. Beh... Mi stai provocando un complimento. No, esatto, ti sto suggerendo, instigando a un complimento. Però io so che hai un'altra grande passione che è quella per il pianoforte che hai smesso di suonare ma hai detto addirittura che è diventato un tuo tabù. Perché è un dramma addirittura? Perché l'ho studiato seriamente, pensavo di fare... Il pianista. Il pianista o comunque di fare... E poi quando arrivò il 68 e quella cosa di punto in bianco smese e non ho mai più messo le mani su un pianoforte. Quindi per me ogni volta che vedo un pianoforte... È uno studiamento. Beh insomma... Però proprio per questo allora ti facciamo un regalo che a quest'ora non può che essere un notturno. Il numero due di Chopin nell'esecuzione dell'unico Maurizio Pollini, inevitabilmente. Adesso mi metto a piangere. Ma tra i ricordi la manifestazione Pollini e Chopin metto a piangere anch'io, mi sa. Allora... Godiamocela un attimo. Eccolo. Eccolo. Eccolo.